Ben trovati a questo primo appuntamento della serie Cinema e Psichiatria dopo l'introduzione di sabato scorso, oggi parlerò del disturbo bipolare e soprattutto utilizzerò un film per illustrare gli aspetti salienti di questo disturbo. Allora in primo luogo che cos'è il disturbo bipolare? Il disturbo bipolare è un disturbo appunto con due poli, l'aspetto depressivo si alterna con l'aspetto maniacale, ci sono più tipi di disturbi bipolari, c'è il disturbo bipolare tipo primo, disturbo bipolare tipo secondo, il disturbo ciclotimico, fondamentalmente ci sono degli aspetti molto specifici, ma fondamentalmente possiamo pensare a questi tre disturbi in termini di gravità, come il disturbo bipolare tipo primo, quello con fasi di grande eccitabilità che noi chiamiamo mania e profonda depressione. Ora fondamentalmente l'isturbo bipolare lo caratterizzerò per la sua parte maniacale, questo perché? Perché la parte depressiva poi la affronterò in un successivo incontro, quindi quando parlerò di depressione, quando vi illustrerò attraverso un film la depressione, approfondiremo proprio questo tipo di aspetto. Quindi vi parlo fondamentalmente della mania, quello che noi conosciamo come mania che può essere ipomania nelle fasi più lievi. Che cos'è la mania? La mania è caratterizzata da una persona che presenta un'elevata autostima, un senso di grandiosità di se stessi, una logorrea, cioè un eloquio, un parlare molto veloce e molto ricco di parole continuo, un'accelerazione del pensiero, la fuga delle idee, una distraibilità, la persona non è più in grado di seguire le singole cose per il tempo necessario perché passa da un argomento all'altro. Un aumento generale delle attività quotidiane, un'agitazione psicomotoria e fino alla partecipazione a attivazione di comportamenti anche di tipo rischioso per sé e anche per gli altri. Quindi la mania è caratterizzata da un segno più, cioè da un'accelerazione di tutto quello che è l'espressione della persona sul piano della parola, sul piano del comportamento, sul piano della ideazione. Ecco, la persona con mania è una persona che ha fondamentalmente, nelle sue forme perlomeno più elevate, poco senso di critica. La sensazione soggettiva è di stare bene, mentre il depresso sente di stare male, sente di soffrire. Il maniacale è invece una persona che si sente pieno di energia, pieno di voglia di fare, si sente bene, combina disastri e dopo si pente, quando tornerà, ritornerà della sua fase maniacale, però si sente pieno di vita, pieno di vita. Quindi diciamo anche il senso critico viene meno. Ora, i film che si occupano di, che rappresentano personaggi di questo tipo, ce ne sono, ce ne sono anche un certo numero. Diciamo che il cinema si arricchisce e diventa anche piacevole, divertente quando ci sono personaggi di questo tipo, perché sono personaggi particolari, che spiccano, che danno, che comunicano, che comunicano molto. Quindi diciamo questi film sono film che a volte poi quasi sfociano in realtà anche un po' in una certa parodia, ma sono film, insomma tutti film d'azione fondamentalmente possono essere anche visti in termini di personaggi che hanno perlomeno, che sono perlomeno di tipo ipomaniacale. Ora, il film che ho scelto è uno, vi spiegherò poi perché ho scelto questo tra i tanti possibili, però vorrei anche ricordare altri film del passato, ve ne nomino solo due per verità, ma ci sono veramente tanti. Uno è degli anni 60, del 1962, in particolare il sorpasso con Vittorio Gasman e Jean-Louis Trintignan. Gasman è un personaggio che ha caratteristiche maniacali, è un personaggio che è logorroico, gli viene tutto facile, è uno brillante, però si mette in pericolo e mette in pericolo anche gli altri, ha poco senso della critica, cioè invade la vita degli altri senza rendersene conto e si mette in pericolo fino a delle estreme conseguenze. È un film che vi consiglio di andare a vedere se non avete visto. L'altro film è è Mr. Jones, Mr. Jones è un film del 1993 in cui Richard Gira gigioneggia e spadroneggia, è un film di qualità indubbiamente minore, però è un film che ha avuto un grande successo. La qualità di questo film per me è quella di essere molto didattico, cioè di permettere di illustrare fasi di maniacalità, ma il bello è che in questo film c'è anche la fase depressiva del personaggio e quindi è possibile anche fare dei ragionamenti sul passaggio da una fase all'altra, quindi da questo punto di vista è molto didattico, anche se la resa qualitativa del film è quella che è. Allora però io ho scelto un altro film, il film che ho scelto è La Pazza Gioia. Pazza Gioia, film del 2016, quindi abbastanza recente, di Paolo Virzi con Michaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi. Ora il film è ambientato in Toscana, le due protagoniste, quella di Valeria Bruni Tedeschi, è Beatrice e invece quella di Michaela Ramazzotti e Donatella. La prima è un personaggio appunto di tipo maniacale, è una bipolare, in una fase di eccitazione, di eccitazione comportamentale, quindi fase maniacale. Donatella invece è un personaggio con depresso, anche borderline, nel senso che ha anche una personalità complessa, particolare, lei è stata sottratto il figlio per una sua incapacità a prendersene cura ed è anche in questa fase depressiva, proprio perché ha perso il figlio, Donatella ha anche tentato il suicidio. Ma la focalizzazione appunto di questo mio intervento è sull'altro personaggio che peraltro interagisce con Donatella, cioè parlo di Beatrice. Beatrice è una donna che trascina, che trascina Donatella in un'avventura. Loro sono in questa comunità dove tra l'altro non si conoscevano, si conoscono nel momento dell'arrivo di Donatella nella comunità e Beatrice addirittura si finge un medico della comunità e quindi comincia a parlare con Donatella quindi fingendosi quello che non è. Anche questo appunto la finzione, l'aspetto della recitazione, il piacere di fare qualcosa di proibito, ecco insomma sono tutte caratteristiche di Beatrice che non ha limiti, non ha critica su quello che viene fatto. E ovviamente viene rimproverata dagli operatori della comunità che in realtà non ne possono più di Beatrice perché è continuamente in questa fase espansiva e quindi rompe le scatole a tutti. Logorroica, si impiccia sempre degli affari degli altri e ha questo senso di grandiosità interna che la porta a misinterpretare il comportamento degli altri. Ha un conducente dell'autobus, gli dice che sta cercando di ricondurlo un attimo alla ragione, lei gli dice ho capito che lei mi sta facendo la corte, quindi diciamo non interpreta sicuramente correttamente la realtà. E l'aspetto demaniacale è poi di non programmare, è impulsiva, è impulsiva, vede passare un autobus di linea sulla stradina di campagna vicino alla comunità e trascina con sé Donatella per andare a prendere l'autobus. Non servono a niente tutte le grida, le urla degli operatori per farle tornare indietro, niente, loro partono, si imbarcano su questo autobus, tra l'altro anche senza biglietto, ma questo per Beatrice è veramente poco importante, insomma gli viene contestato e guarda il controllore con sufficienza e quindi c'è questa indifferenza alle regole. Poi la storia va avanti, si immergono in una serie di avventure in cui le regole non ci sono più, l'importante è arraffare, l'importante è vivere, l'importante è assaporare quello che stanno facendo. Beatrice è giunta in questa comunità, ovviamente noi non sappiamo esattamente tutta la storia, ma è stata posta in questa comunità perché evidentemente le persone non ne potevano più di lei. Quando arriva in una bella villa dove c'è il suo ex compagno, lui cerca di convincerla a tornare in comunità, evidentemente ne è molto spaventato, ma anche lì succede un patatrack, una serie di equivoci. E poi i comportamenti che potremmo definire anche di tipo antisociale di Beatrice sono numerosi. A fin di bene poi perché la storia ovviamente ha, come spesso succede nei film, vuole nuotare verso un finale anche consolatorio e quindi al di là di questo comportamento disregolato, quindi logorrea, ricordo, velocità di pensiero, velocità di comportamento, c'è poi il desiderio di Beatrice di aiutare quella che è poi l'amica Donatella. Ma e quindi per fare questo poi si imbarca in comportamenti che sono anche dei reati, cioè per esempio un furto perpetrato ai danni dell'ex marito, la corruzione di un'infermiera, di un OPG, perché poi c'è anche l'ospedale psichiatrico giudiziario come contesto anche di riferimento all'interno di questo film. Quindi diciamo il paziente che è bipolare, è fonte di imbarazzo, di vergogna, quindi è un paziente che fondamentalmente le persone cercano di evitare, cercano in questo caso di isolare. È una bella rappresentazione, ma perché l'ho scelto? L'ho scelto perché è un film, intanto è un film recente, è un film italiano, ma non per sbandierare patriottismi, ma perché descrive esattamente delle situazioni di contesto di salute mentale, di cura della salute mentale in Italia, che non sono presenti in altri contesti. Se noi vediamo, non so, Mr. Jones abbiamo dei contesti completamente diversi, che non sono comparabili con i nostri. E quindi diciamo che è ricco anche in questo senso, anche se poi è stato contestato. Questa comunità è una comunità un po' bizzarra, un po' caotica, un po' farsesca. Si spera che le comunità in generale siano un po' più strutturate, però insomma anche questa è una realtà possibile. E quindi questo racconto è proprio bello, proprio perché si inserisce in un contesto italiano che ci fa capire come si può sviluppare un disturbo e come viene affrontato anche nel nostro paese, tant'è che appunto in America non è proprio entrato, non è stato proprio visto.